Alberobello, piazza più grande del Alberobello, piazza del popolo, da 1922 prima la piazza da Vittorio ho ritornato nel secondo, la zona 7, 30 anni fa il Pedonale, questo municipio di secondo Alberobello, il Monomene Caduti che doveva essere dedicato a un'altra cosa ma poi è stata trasportata al Monomene Caduti, la nostra chiesa più importante è questo palazzo che un tempo era un trullo fino a 60, vabbè, Alberobello, auguri di buone feste a tutte le bellezze